ciao cari amici benvenuti in questa nuova puntata di hit online siamo insieme a freddy gamer bella a tutti ragazzi benvenuti in questo video sono freddy gamer io bonnie gamer volevo sapere una cosa bonnie gamer sai come si vanno nelle skin skin solamente questa poi le altre vedete che puoi cambiarti nome io mi sono messo bonnie ma vero basta andare qua ah vero cancelli il nome e mi metto freddy freddy perfetto ok dai iniziamo iniziamo devi mettere almeno bonnie gamer però dai freddy e bonnie è la stessa cosa è lo stesso devo vedermi proprio queste pubblicità ogni volta che inizio è finita la partita proprio da adesso ammaccata la freccia voglio vedere un'altra pubblicità scusate ecco mi ha ancora pubblicità si 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 lascia stare siamo in un video non vuoi metterti nel video ma sei in mezzo di un video guardiamo un po' qui guardiamo il tetto perché non voglio ci mangi un video con morese quando vino e morese a casa tua e vuoi venire da me e facciamo una live di minecraft non lo so pure io 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 non lo so tu che cosa sei? umano pure io vengono 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 abbiamo vinto una pianta e voglio diventare voglio diventare una ok sono un vader chiedo a guardarmi la pubblicità silenzio assoluto raga non mi scopriranno mai non lo so sotto che quanti minuti di video quando vorremmo res potremmo fare una live con lui oppure un video live vuoi dire live però è difficile farlo non lo so io al momento ci riuscivo a fare la live bene metti la x grande sono stato un lavandino è un vader siamo dire stessa cosa ma perchè devo vedere se non è vivo se non c'è da piovere sarà se non c'è delle gocce io si fa fiori vuoi dire giusticamere eh lo so oh a momenti c'è questa faccina attenzione oh voglio diventare una bulgare così mi metto sopra la porta capito di clicco perché tanto tu quando è morto che schifo è questa roba quando è morta si è diventato quando è morto quando è morto mi metto a saltare così non mi prendo neanche mi hanno visto neanche mi hanno visto sono morto no mi presento bolli per bolli ehi ciao carimici ehi ciao carimici ok raga però dai iniziamo siamo a dei minuti di video il deline è un poco noioso è subito che si muovono già uno l'abbiamo ucciso ok and Bitch Hatena ce l'ho sorte sto vingendo sto vingendo Ho vinto E che cos'è? Oggetto A me manca un minuto Ho sentito qualche cronato Questa è la canzone di Fainite Ok piccio Scusate per il siciliano Ok la va Andiamoci da fare Ok iniziamo Oh ma è un ristorante Guarda c'è un ristorante Vado a controllare se si muove Scusate per la parruccia Oh Oh Imbrogliatore C'è un lattino Oh l'uccido Quella lattino aveva E' un ucci del diavolo Lo sento L'ho visto Stavo per uccidere Uccidela collega No Stavo per uccidere Scusate Da qua Vediamo Vediamo se Si va Lo ha mandato Qua fa il monello Oh Eccolo Oh Oh Tira Guarda Guarda Vabbiamo Inche Siamo umani Le umani non ci arrendono Ma Però io sono umani C'è qualcuno C'è qualcuno Oh 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 Meglialino Oh Certo È finito Oh Ti fai sparare Uno Dove mai Si è lasciato Fara C'è di nuovo Quello Ucciso La lattina Con il Diavolo Se La lattina Raga Dobbiamo vincere Tanto noi Stiamo vincendo Pure io Andrano Sono 20 e 50 Secondi Ok Ci guardiamo Secondi Ciò Sbrigiamo Ma Qui si può andare 40 Secondi Io 51 Secondi Io 51 Secondi Io Come di Tu Io Volevo La lattina Se L'abbiamo Ucciso Io Vedi un bagno Per controllare Se si muove Qualche Vater Oh Dove andando Se mi Corrò Dove andando Si muove Nessun Vater Anche Un lavandino 10 Secondi Sì Siamo 10 Quindi Quando Finisce Qua I secondi Salutiamo Ok Sì Sì Purtroppo Io Sono Adorci Dovremmo Vincere Abbiamo Perso Però C'è Sì Sì E Dalla Scatola Bunnigamer E Fredgamer Ciao 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 Ciao